L'ASR trattiene gli emolumenti dei medici di famiglia a causa dei mancati aggiornamenti delle liste dei pazienti. Sul caso interviene l'intersindacale medici che esprime tutto il proprio sconcerto e la contrarietà in relazione all'ennesimo atto perpetrato in danno della categoria dei medici di medicina generale. Sulle emolumenti del mese di marzo le ASL pugliesi dicono dall'intersindacale hanno provveduto ad eseguire trattenute fatte unilateralmente per il problema riguardante le liste dei pazienti deceduti e o trasferiti che però non sono state aggiornate. Non venendo quindi gestito con perizia, diligenza ed efficienza dall'amministrazione pubblica si riverbera sulla medicina generale con l'ennesimo pregiudizio economico per fatti e colpe imputabili ad altri soggetti. E' dura dunque l'intersindacale sulla questione e nonostante più volte è stato segnalato che è compito delle amministrazioni come riportato anche nell'accordo collettivo nazionale la tenuta degli elenchi con la puntuale cancellazione di deceduti e trasferiti il danno economico si ripercuote puntualmente sui medici di famiglia ignari e assolutamente non responsabili delle inefficienze amministrative. Avevamo da tempo, dicono dall'intersindacale, diffidato a procedere alle trattenute se non dopo aver espedito quanto previsto dall'articolo 41,4 dell'accordo collettivo nazionale che disciplina tale fattispecie. Ribadiamo ancora una volta che ci devono essere contestati gli atti e ci deve essere data la possibilità di controllare la correttezza degli stessi, atteso che la prova dell'indebito o ingiustificato pagamento rimane comunque a carico delle ASRE. Per questo motivo l'intersindacale chiede l'immediata restituzione delle somme trattenute annunciando, in caso contrario, di procedere per vie legali.